E benvenuti a un nuovo episodio di Specchio Sapiens. Oggi parleremo di un tema estremamente importante e molto attuale, l'ADHD, ovvero il disturbo da deficit di attenzione, iperattività. Questo disturbo neuropsichico, che colpisce un numero considerevole di bambini, può avere un impatto profondo sulla loro vita quotidiana e anche sul benessere, chiaramente, della famiglia all'interno della quale il bambino cresce. In Italia si stima che l'ADHD colpisca circa il 3-5% dei bambini in età scolare. Ma che cosa significa esattamente avere l'ADHD e come possiamo riconoscere i primi sintomi? Oggi indagheremo anche su come agire in caso di sospetto e come chiedere aiuto, oltre chiaramente a fornire consigli pratici su come i genitori possono supportare i propri figli, tra poco, dopo la sigla. Grazie a tutti! E cos'è l'ADHD? L'ADHD è un disturbo dello sviluppo neurologico caratterizzato da sintomi di disattenzione, iperattività e impulsività. I bambini possono avere difficoltà a concentrarsi, a rispettare le norme sociali e a gestire soprattutto le proprie emozioni. Le cause dell'ADHD non sono ancora completamente comprese, ma si ritiene che una combinazione di fattori genetici, biologici e ambientali giochino un ruolo importante. La predisposizione genetica è spesso citata come il principale fattore di rischio, mentre fattori ambientali come l'esposizione a sostanze tossiche durante la gravidanza o a stress elevati, possono contribuire all'insorgenza del disturbo in maniera comunque significativa. Riconoscere i primi sintomi, questa è la prima fase. I sintomi dell'ADHD si manifestano in modi diversi, però i genitori possono prestare attenzione a dei segni, a dei segni precoci. Alcuni comportamenti da osservare includono per esempio la disattenzione, che è la difficoltà a mantenere l'attenzione sui dettagli, errori frequenti nei compiti, incapacità di seguire le istruzioni e quindi questo è un segnale non indifferente. Poi c'è l'iperattività, che è proprio un tratto distintivo di questo problema e quindi l'agitazione eccessiva, l'incapacità di rimanere seduti, di aspettare. Ecco, queste sono un po' le dinamiche che dovrebbero iniziare a preoccuparci quando sono frequenti nel comportamento dei nostri figli. Allora, come agire? Come chiedere aiuto? Se riscontrate questi sintomi nel vostro bambino, vi posso dare alcuni elementi da considerare. Fondamentale è l'osservazione. Annotate i comportamenti e le situazioni in cui si manifestano queste cose, questi sintomi. Tenere un diario potrebbe essere un'ottima idea perché ci dà modo di avere, di indicare delle informazioni che possono essere preziose. Un altro aspetto è il dialogo. Il dialogo con le insegnanti o con gli insegnanti. Quindi se il bambino è in età scolare, parlate con gli insegnanti riguardo al suo comportamento in aula, cosa fa a scuola, alla sua interazione con i compagni. È importante che anche voi vi informiate, che chiediate agli insegnanti come vanno le cose, dialogando con loro e manifestando i vostri disappunti, le vostre paure, le vostre incertezze. Un altro aspetto importante è la consultazione con un professionista. Non smetterò mai di dirlo. Bisogna rivolgersi a pediatri, a specialisti in salute mentale infantile. Questo è importante per ottenere una valutazione accurata. Non esitate, non esitate a chiedere aiuto e supporto psicologico, per esempio a gruppi di sostegno per genitori. Perché comunque non bisogna mai vergognarsi di ammettere di avere un problema. Un problema oltretutto esiste perché necessita di essere risolto. Come comportarsi quindi come genitori? Come supportare un bambino con ADHD? Ovviamente sono fondamentali delle strategie e ci vuole anche molta pazienza. Quindi potrei darvi su due piedi dei consigli pratici su come fare e su cosa fare e su cosa non fare. Cosa fare quindi? Intanto stabilire delle routine. La routine quotidiana aiuta a fornire una struttura che i bambini con ADHD possono seguire. L'uso di rinforzi positivi, riconoscere e premiare i comportamenti positivi è importante per la motivazione nel bambino. La comunicazione inoltre deve essere chiara. Usate istruzioni semplici e che siano dirette. Dirette e volte a verificare che il bambino abbia compreso. Quindi chiarezza nell'esposizione è molto importante. Che cos'è che invece non va fatto? Intanto non vanno fatti i confronti. Evitare di paragonare il vostro bambino con i coetanei o con i fratelli. Ogni bambino è unico, è unico e speciale e sviluppa chiaramente ritmi diversi rispetto agli altri. Quindi non bisogna punire mai i bambini, non in modo severo, perché l'ADHD non è un comportamento volontario. Questo è molto importante da comprendere. Posizioni eccessive possono aggravare soltanto la situazione. Quindi non ignorare i sintomi. Questa è la prima cosa. È essenziale affrontare i comportamenti problematici invece di attribuirli per esempio a fasi temporanee, trovare delle giustificazioni che non hanno nulla a che vedere con questo problema. Quindi essere genitori di un bambino con ADHD è sicuramente un problema e comporta delle sfide, comporta comunque anche coraggio. Ma conoscere il disturbo e sapere come affrontarlo è il primo passo per fornire un giusto supporto. Riconoscere i segni precocemente, chiedere aiuto, avere l'umiltà di chiedere aiuto e adottare quelle che sono le strategie più efficaci che possono fare la differenza nella vita dei bambini e delle loro famiglie. Se avete dei dubbi o domande da fare, ve lo ripeto, potete commentare o potete scrivermi alla mail specchiosapiens.gmail.com. Io risponderò alle vostre domande con un altro video. Vi aspetto alla prossima puntata con Specchio Sapiens. Grazie a tutti.